Barbara, un europeo iniziato male, finisce con la vittoria contro le vice campionesse olimpiche, tra l'altro per te una prestazione strepitosa stasera. Grazie, c'è tanto rammarico perché a fine partita ai tre fischi ho pensato bastava un pareggio con una delle due squadre in cui ce la siamo giocata alla grande. C'è rammarico per la prima partita perché era abbordabile, però almeno abbiamo onorato la maglia nell'ultima partita. Che cosa di buono ti porti dietro da questo europeo? Esperienza, tanta esperienza, la consapevolezza che stiamo crescendo, che siamo una grande squadra come avevo detto prima dell'europeo. Sono triste perché siamo uscite, perché secondo me potevamo fare molto bene, però gli episodi sono stati sfavorevoli e usciamo ma a testa alta.